Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla prima tappa della No Name Series, questo è il primo torneo organizzato dal team No Name. Lo scopo principale del torneo è riuscire a risollevare il competitive di questo. Competitive che ormai fa fatica, ma anche in tempo di coronavirus e tutto quello che abbiamo fatto. Ho subito una bella botta di arresto. Oggi sarò io, Gianluca Di Clemente, il commentatore ufficiale, ho qui con me in compagnia, fammi compagnia per questo torneo del team EGM. Lo ringrazio per il sostegno di oggi, visto che sarà una lunga giornata. Mi mando poi la fattura. Principalmente il torneo sarà composto, dovremmo essere sui 27 partecipanti, saranno 5 turni di Svizzera, più Topotto. I premi della Topotto ve li posto. Il primo premio è 250€ di buono Amazon, più un tappetino a car market che Isaac ci ha voluto deliziare così. Secondo classificato 100€ di buono Amazon, terzo e quarto box di Ghost in the Shell, che è un'espansione in pochi anni, uscita col Covid. E poi ha una carta che è la Motoko costo 2, che vale abbastanza. 35 mi sembra. Ha una delle carte che vale di più in questo momento nel gioco. A dar quinto all'ottavo abbiamo 20€ di buono car market, donati dal nostro sponsor Nico Bro. Ringraziamo. Ringraziamo il nostro sponsor. L'ultimo torneo mi ricordo che fu un altro tempo. Problemi tecnici. Eh, Eidro l'ha detto. 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 Eidro disse. Dopo diamo una tirata di scotch. Perché è una terza spell per la paghi gratis. E vabbè, Reflat crollerà per sempre. E io in un gioco cre... Eh, prendi lo scotch. Eh, prendi lo scotch. Guarda, se te ne va open di due per dare due volte barriera. Sì, sì, non ne gli passo niente. Reflat è morto. Eh, vince. Si scompone. Si scompone. E' contento per entrare. Mi abbiamo ammesso. E cosa dirà? Ti ha vinto. Ti ha vado il portafoglio, eh. Se posso rubarmi mica voi. Mi apre mano, triplo angioletto, doppie che da barriera. Sì. Pesca e regalia. Poi tipo, mi fa... Eh, gli brucio tutte le due barriera. Sì. Porca... Caspita. Topdeck ha altre due che danno barriera. E poi Topdeck ha l'altra regalia che lo fa flippare. E poi mi rivela il quarto angelo. Quindi Isaac per me pensi nella tua partita... Indegna. In G1 posso perdere TK. Secondo te quale è l'unico straniero che gira? Tappo e dump. Il cazzo di robottino che guadagni mille punti vita. Non ci volevo credere. Era Tappo e avevo TK. Quello, boh, era lì per. Sì zio, ma non si vede la telecamera. Seggio live? Anche perché questo... Cioè, vogliamo farvi capire che in realtà non cerca assolutamente niente di vincere. Quello che ci serve è giocare. Giocare per tutti, sponsorizzare, pushare nuovi giocatori, vecchi giocatori. L'importante è che giochino tutti perché questo è, secondo me, il miglior gioco mai fatto ed è giusto che venga valorizzato come serve. Tra GIFP, eccetera, abbiamo fatto, secondo me, almeno 100 giocatori nuovi. Almeno, venimo. Anche solo se 20 giocatori nuovi vengono i GP, torniamo a fare i GP da 100 persone che non è tanto, però considerate un po' di micchia. Non è poco. È buono, quindi almeno quello. Cercheremo di offrirvi uno streaming di qualità, infatti si vede. Poi, un'altra cosa, apriremo un Patreon, in cui ci potrete aiutare con la Lega. Aiutare come? Principalmente con donazioni che ci permettano di comprare altra... Altra... ragazzo si chiama, no? Telecamere, microfoni, eccetera. Perchè, adesso, avete visto, non abbiamo avuto prego la telecamera perché la scarica è il primo e quindi... Comunque, stava andando abbastanza bene. Esatto. No, 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 infatti. Apriremo un Patreon e vi metteremo articoli e video su Force of Wheels, assieme a quelli di Force of Wheels Italia, eccetera, in cui potrete aiutarci con una minima donazione a comprarci l'attrezzatura e che poi sarà per voi. Quindi, in realtà, è un Patreon per voi più che per noi, perché non ci torna assolutamente niente in tasca. Oh, Vinco, vuoi salutare Twitch? Abbiamo un ospite speciale, un ex giocatore. Ciao ragazzi. Ciao panno. Il panno. Ma, vecchio, ho fatto Isaac un puttanaio. Eh, rega, scusate... Ma l'estrazione si è sentita? No, per quanto pare non si è sentito niente. Ah, ragazzi, abbiamo fatto un'estrazione perché è rimasto da fuori dalla... Mi puoi dare il classificato, poto? Rega, Isaac ha questo combustibile. Sì, c'era il microfono mutato. Ah, esatto, non capisci proprio niente. Allora, ragazzi, perché è rimasto fuori dalla tua porta abbiamo fatto un'estrazione. È uscito il numero 17, quindi il diciassettesimo. Ha vinto un'iscrizione gratis per il prossimo torneo. 15 euro così. E quindi, in questo caso ha vinto Roberto Monsorno del team Magmon. E vince Lorenzo, Drammilla, Isore. Va bene, adesso avresti volto... Bravo. Signore, finalmente abbiamo finito questo live. Ti giuro, rega... Una solidità, Lorenzo Brambilla pisa. Solido, rega, solido. No. Vince uno dei no name, dimostrazione del fatto che questo torneo non ha la tratta. Non veniva, rega, non veniva questo torneo. Eh, non c'era la smile. Non c'era mai. Se non mi pagano, quindi... No, comunque, bravo Lorenzo. Bravo Giacomo. Si intascano rispettivamente 250 euro, Lorenzo. 100 euro. Lorenzo rimette tutto. Già, non muore. Il prossimo torneo sono 500 euro. Ah, dai, Nilo... Oh! No, no, prega. Il prossimo torneo sarà il prossimo torneo. In questo momento, in questo momento, bebbissime di avervi trovato bellissimi. Non so se ci sta trollando oppure no. No, no, è serio, è serio. Io voglio dire una parte buona, ma... ...dai, io sono contento. Ehm... Metteremo i video Faremo il drag down Faremo un sacco di cose Ci vediamo al prossimo Che non so quando è Probabilmente il 6 Probabilmente no Chi lo sa Tanto farò sicuramente Almeno un articolo sulla serie E Ne parleremo ancora Prima che arrivi Diciamo che facciamo passare la pausa estiva Esce a O4 E poi Facciamo dei piccoli spoilerini Poi nel corso del mese Che è un po' di hype Sì un po' di 25 Sì un po' di ci stanno Poi 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 ci stanno Etichettati E E Buongiorno Chiudiamo Che andiamo Ci vediamo alla prossima Grazie a tutti Essere stati con noi Grazie Grazie a tutti E 40 Grazie a Pizzone Che almeno ci porta a casa i soldi E stasera Andiamo tutti a mangiare il cazzo Ciao 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 Non porta bene a fare Fuori di Svezza Ma è finto poto Quella è la legge Quella è la legge Vediamo se con questo nuovo prologo Con questa nuova serie di tornei Ma non ha vinto Stefano Che vuole Ma è finto Ma è fatto vedere la spell E ho ticappato Ha vinto cosa Ho sbagliato Ma io Ma ha fatto la spell Ce lo siamo persi You're right King Pearlshine Eh Vacchio ma non si capiva niente I thought you closed the game With the spell Sorry Ma non si capiva